Diciamo che le giornate del 31 luglio e del 1 agosto non sono state molto positive per il Torino in quanto in 36 ore circa ha subito ben tre docce gelate. Ma partiamo dalla ricostruzione a livello cronologico. Il 31 luglio in Lugano ha dato lo stop alla trattativa per l'accessione del Class 2003 ai Dari, agli stessi Granata, in quanto il club svizzero non si è dichiarato disponibile a cedere il giocatore in questa fase di mercato. Infatti Sonero è stato poi impiegato anche in amichevole dopo che a inizio stagione non aveva neanche preso parte alle partite perché c'era questa trattativa in ballo. Il giocatore è stato utilizzato e poi c'è stata questa dichiarazione da parte del club svizzero che ad ora, inizio agosto, non vuole cedere il calciatore. Giornata del 1 agosto, verso i 10-10 e mezza si diffonde la notizia che esonera Scurs dal tornare sotto i ferri. Inizio pomeriggio il Bologna ufficializza Martin Erlich, il classe 98 prelevato per 7 milioni di euro e più di bonus dal Sassuolo, fondamentalmente l'unico obiettivo di Vagnati dopo lo stop di Ai Dari. Però abbiamo parlato più volte sul canale di tempi di gioco e in questo caso, vedi? Vedete? Non sono collimati i tempi, sono stati scelti i tempi di gioco errati. Si è magari procrastinato un certo tipo di filosofia, si è procrastinato una certa tipo di strategia nel tempo e poi arriva il Bologna che dopo aver incassato i soldi per Calafiori, dopo aver incassato il no di Ermoso e sta ancora attendendo la risposta di Hummels e a questo punto dubito che arriverà una risposta, ha investito i soldi appunto prendendo Erlich dal Sassuolo. Terza doccia gelata, notizia della serata di ieri, Scurs è stato operato a Londra per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. E vi leggo la nota del club Granata. Alla seduta operatoria eseguita dal professor Stefano Zaffagnini ha partecipato il dottor Corrado Bertolo, medico sociale del Torino Football Club. Si legge nella nota di Ramata e Granata. L'intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tra circa due settimane il difensore potrà iniziare la rieducazione. Allora, generalmente questo periodo diciamo di prima fase dura tra le tre e le quattro settimane. Ovviamente Scurs è uno sportivo, ha un certo tipo di fisicità, un certo tipo di resistenza fisica e comunque può contare anche su tecniche e su metodi terapici insomma un po' più prestazionali. Quindi in due settimane il giocatore, più o meno due settimane, dovrebbe ricominciare appunto come ha detto il dottor Corrado Bartolo il processo di rieducazione. Il problema sono poi i tempi di recupero perché non sono state fornite date ma generalmente per una ricostruzione del legamento crociato anteriore si parla di almeno sei mesi di stop da come si vince e come se il lavoro abbia necessitato un rinizio quindi è stata rieffettuata una ricostruzione quindi presuppongo, deduco che i tempi di recupero non saranno inferiori ai sei mesi perché poi c'è il discorso di rieducazione c'è il dover adattare il ginocchio a avere una certa mobilità poi bisogna che venga fatta una riatetizzazione dell'arto quindi sia del ginocchio che le varie muscolature insomma che sostengono il ginocchio e quindi dubito fortemente che il giocatore rientri entro i sei mesi quindi ora che siamo in agosto si parla di febbraio 2025 onestamente contando che fu operata la prima volta se non erano verso la seconda metà di ottobre del 2023 minchia un anno e mezzo di stop per un legamento crociato comunque la prima operazione sarà fatta a Bologna poi c'è stato quel periodo in Olanda e onestamente sei tanto curioso quanto però penso che sia molto difficile capire quale sia stato il problema onestamente se a livello di operazione o a livello di rieducazione o problemi esterni al difensore non lo so fatto sta che è molto anomalo il fatto che per un legamento crociato bisogna stare fuori un anno e mezzo e questo è un'altra doccia fredda soprattutto dal punto di vista anche e soprattutto dal punto di vista tecnico sportivo perché nei commenti mi avete scritto il sostituto di buongiorno sarà Scurs i più volte vi ho detto ragazzi bisogna vedere quando rientra Scurs e adesso appunto si parla di questo periodo molto 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 lungo quindi il Torino cosa farà? dovrà ovviamente tornare sul mercato perché comunque una soluzione va trovata è impensabile affrontare una stagione avendo come centrali come vi ho già detto Coco Voivoda come è stato testato in amichevole Masina che vabbè lui braccetto ci è e si è trasformato in braccetto con Gessan con Della Valle con Sazanov c'è la cessione di buongiorno ok che ha fluttato dei milioni e comunque andano spesi in modo intelligente ma bisogna trovare difensori con un certo tipo di profilo che ti possa sostituire buongiorno ma ancora di più o quantomeno allo stesso modo sostituire anche Scurs perché Scurs per almeno sei mesi secondo me non lo si vedrà in campo quindi in questa sessione di mercato non solo il Torino ha perso buongiorno ma ha visto perso ulteriormente Scurs per gran parte di questa stagione ed è una cosa molto importante e secondo me anche grave allora quando ci sono queste situazioni che tu perdi elementi importanti e hai elementi importanti fuori non devi tentennare non devi tentennare soprattutto una volta che tu ricevi soldi per buongiorno se tu hai un buco di buongiorno e tu hai un dubbio forte su Scurs tu non puoi attendere giorni e giorni per prendere il sostituto ora è perché Hummels ha detto non ha ancora risposto al Bologna ma il Bologna dopo l'accessione di Calafiori avesse avuto preventivamente il sì di Hummels il giorno dopo l'avrebbe contrattualizzato e così si fa se tu sai di perdere il buongiorno tu il sostituto non devi prenderlo dopo l'accessione di buongiorno ma devi quantomeno imbastire trattative prima se tu hai dubbi su Scurs sul rientro di Scurs tu devi imbastire tutto prima e non puoi tentennare per l'Ehrlich della situazione perché poi ti passa il Bologna di turno che ha disponibilità economica che ha sondato il terreno per altri profili magari aveva buttato un occhio al discorso Torino-Ehrlich nell'arco di poche ore perché comunque la notizia è stata cotta e magnata il Bologna arriva lì 7 milioni più 2 di bonus ecco che il Bologna ha il sostituto sulla carta si vende molto diverso a livello tecnico di Calafiori punto il Torino si doveva col cerino in mano senza Scurs senza i Dari per il quale hai procrastinato 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 giorni su giorni su giorni in più di Ehrlich si parla settimane e non hai concluso i famosissimi tempi che a volte ti poi permette di averli un po' più lassi come se tu stessi vincendo 4-0 al settantesimo di gara ma ci sono dei tempi dove tu devi accelerare i tempi di gioco devi cercare anche di bruciare la concorrenza altrimenti è la concorrenza che brucia te e adesso io sono curioso di vedere i profili sui quali dirotterà il Torino perché ad ora si era parlato anche di Rugani però Rugani adesso sembra che abbia accettato l'opzione prestito all'Ajax quindi piano piano anche perché ripeto manca un mesetto a fine del mercato i discorsi si stanno pian piano delineando e è impensabile che comunque una società come il Torino tergiversi così sui giocatori se tu sai di poter spendere un massimale o magari hai il dubbio su una condizione di pagamento tu devi trovare tutte le diverse soluzioni altrimenti i settori scouting bagnati il famosissimo piccini del quale si parlava che esistono a fa cioè non si può dire e vabbè però le tempistiche erano brevi no ragazzi perché come sono prevenibili gli infortuni ai legamenti del ginocchio contando che più dell'80% derivano da traumi o meglio derivano da dinamiche non traumatiche quindi tu puoi diciamo non prevedere un trauma ma il non traumatico tu lo puoi prevedere con un certo tipo di preparazione un certo tipo di allenamento e vi invito anche di vedere i video che ho realizzato tempo fa parlando col mitico Luke dell'Academy del Manchester United e quindi come si possono prevedere si possono prevenire gli infortuni ai legamenti del ginocchio di natura non traumatica così si devono prevedere delle situazioni di mercato soluzioni A soluzioni B C D soluzioni in prestito soluzioni a titolo definitivo soluzioni di pagamento e far quadrare tutto perché altrimenti ripeto i dirigenti cosa sono pagati fatto sta che ripeto nell'arco di 36 ore tripla doccia gelata per il Torino ora staremo a vedere spero soltanto in tutto ciò che scurse i cubri in fretta l'atteggiamento del paziente alla cosa primaria soprattutto nelle prime fasi di post operatorie Bagnate ha detto comunque già che Scurse è un ragazzo volenteroso che vuole tornare però sembrano sempre di un ragazzo di 25 anni quindi che in un'età delicata subisce questo anno e mezzo di inattività quindi staremo a vedere e spero che insomma Scurse si riprenda principalmente a livello psicologico poi ovviamente anche fisico poi ovviamente anche per il bene del Torino fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate vi mando al bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi Grazie a tutti